Quinta edizione per il presepe vivente di Matera, ad oggi il più grande del mondo. 400 persone tra figuranti e rievocatori storici e 5 chilometri di itinerario tra i sassi. E così nelle strade, nelle piazze e nei vicoli prenderanno vita il paesaggio e i personaggi del Natale. Dal 2 al 5 gennaio prossimi, nel famoso centro della Basilicata, patrimonio mondiale dell'umanità, sarà possibile rivivere l'atmosfera della Giudea di due millenni fa. Il percorso evidenzia le bellezze storiche e naturalistiche della città, la terza più antica del mondo. Nota per il caratteristico paesaggio, Matera è stata protagonista in passato di film come The Passion di Mel Gibson e Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, di cui ricorrono i 50 anni, e farà da scena alla nuova versione di Ben Hur con Morgan Freeman, che sta prendendo il via proprio in questi giorni. Anche quest'anno il percorso parte da Piazza Vittorio Veneto, per poi abbracciare i rioni sassi e percorrere le vie principali della città vecchia. La prima parte dell'itinerario sarà scenografica, 60 figuranti del gruppo storico romano, che ricreeranno scene tipiche del mondo militare dell'antica Roma, l'accampamento, la scuola dei gladiatori, il senato, la domus. La seconda parte invece sarà dedicata al presepe vero e proprio, con le scene dell'annunciazione e della strage degli innocenti, e ben 200 figuranti per la scena della natività. La grotta che ospiterà la nascita di Gesù sarà riprodotta nel rione Casal Nuovo dei Sassi, dove il pubblico troverà una stella cometa di 4 metri di diametro e un gioco di luci sull'altopiano delle murge.